eccoci arrivati anche oggi una nuova avventura questa volta sarà un'avventura un po meno movimentata più tranquilla infatti siamo a pontoncello andremo nel parco di pontoncello una località vicino a zevio in provincia di verona qui siamo a ridosso del fiume adige dove si sviluppa direi abbastanza grande un bosco abbastanza grande dove andremo a fare una esperienza di bushcraft ovvero immersi nella natura andremo ad accendere un fuoco questa volta sarà un'avventura più tranquilla perché qui con me chi c'è qui come ti chiami la mia bimba quanti anni hai anastasia dirilo tre sei contenta andiamo a cucinare i nostri wuster sul fuocherello vicino al fiume saluta ciao ci vediamo dopo andiamo fai strada anastasia vai ma noi retomarcia vai dritta che dobbiamo trovare il sentiero c'è un po' di fango a 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